Eccoci ragazzi, di nuovo ben trovati, secondo video di questo martedì. Io sono Manmar, questo è il canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi. Vi ricordo che in descrizione ad ogni video trovate tutte le informazioni che riguardano il nostro canale YouTube. Mi raccomando, trovate tutto, link diretto per abbonarvi al canale, link diretto per iscrivervi al canale YouTube, il nostro store per comprare tutto il nostro merchandising, il nostro blog, canaleforzalazio.com, tutti gli indirizzi diretti dei nostri social, trovate di tutto e di più. Fatemi ringraziare il nostro ristorante La Palazzina, sponsor storico e vi voglio anche indicare in questo video come diventare follower del nostro blog. Se vado così lento è perché mi girano un sacco di cose per la testa. Allora, la trattativa tra Lazio e Torino è reale e nonostante la Lazio abbia già preso Castellanos per l'attacco centrale, mi risulta che sia ancora in piedi la trattativa anche per Sanabria. Lo titolo ha fatto una prima offerta al Torino, sto cercando di rifare una costruzione storica, ha fatto una prima offerta al Torino di 25 milioni di euro per Ricci e per Sanabria e nella notte di sabato ci ha avuto una botta di matto ed ha rilanciato a 35 milioni di euro per Ricci e Sanabria. Tra me e me mi sono detto sta cercando di fare il colpo gobbo prendendo due giocatori, dall'altra parte mi sono detto però il primo obiettivo è Ricci, cioè adesso che ha preso Castellanos mi sembra chiaro che in attacco si è coperto, quindi mi concentro su Ricci, però poi un'idea malvagia mi ha cominciato a girare nella testa e quindi entro adesso nel parere personale e dico tra me e voi, così da uno spunto di argomentazione, ma non è che l'odito gli sta vagamente passando per la testa ma che Sanabria potrebbe essere un ideale sostituto di immobile qualora Ciro decidesse di accettare l'offerta araba? Quello che ho detto è una follia ragazzi, ve lo dico subito, cioè è una cosa impossibile da pensare, anche perché io so quale potrebbe essere il profilo giusto al posto di Ciro e Immobile, però partiamo da un altro presupposto, che la Lazio, ce lo dobbiamo mettere in testa questo, non si può permettere di prendere un pacchetto pronto, completo, chiamato Ciro e Immobile, come Ciro e Immobile, come il Ciro e Immobile di oggi, non dimentichiamo che il Ciro e Immobile che ha preso la Lazio, preso per una cifra davvero ridicola, 9 milioni di euro dal Siviglia, veniva da un paio di stagioni in ombra, la Lazio non ha acquistato questo Ciro e Immobile, la Lazio ha acquistato quel Ciro e Immobile e poi negli anni ha saputo costruire quello che ha portato fino ad essere il bomber più prolifico della storia della Lazio. Cioè, ragioniamo in questa ottica, Ciro e Immobile, o uno come Ciro e Immobile già pronto, non lo vedremo mai, mai. possiamo sperare di acquistare un calciatore che in due, tre anni può diventare il Ciro e Immobile di oggi. Ma è altrettanto vero che non ti puoi presentare cosa ne abbia al posto del Ciro e Immobile. Non ti ci puoi proprio presentare. È impossibile. È da escludere. E allora la domanda, torno a bomba, di questo video. Perché ancora è in piedi la trattativa con Torino per due giocatori? O Lazio e Torino stanno architettando qualche scambio più grande? Perché allora una riflessione ci viene. O meglio, con Immobile, se si crea l'occasione, bene. Perché dobbiamo pure ricordare in piccolo particolare, attenti, perché Castellanos gioca bene pure sulle due fasce. Allora la mia fantasia vola e dico, indipendentemente dal fatto che ci sta Ciro o no, visto che improvvisamente sti rapporti con Cairo si sono fortificati, non è che magari questi stanno lavorando su un maxiscambio maxiscambio che potrebbe essere Ricci e Sanabria alla Lazio, valore di mercato circa 45 milioni di euro, e Basic che piace molto a Juric e alla Lazio non serve più, e Cancellieri che piace molto a Juric al Torino. Allora mi metto seduto e dico 45 milioni è il valore dei Ricci Sanabria, orientativamente. Ci scalo i 9 milioni di Cancellieri ok? E sto a 36 ci scalo i 7-8 di Basic e porto il valore a circa 30 milioni di euro. 30 milioni di euro per Sanabria e per Ricci per me potrebbero rappresentare un'occasione di mercato. Ma non deve passare per la testa a nessuno che Sanabria o lo stesso Castellanos possono essere i sostituti di Ciro e Immobile qualora Ciro dovesse partire. Se invece Ciro dovesse restare questa eventuale trattativa con il Torino avrebbe il suo perché hai perso Cancellieri come numericamente in attacco lo recuperi con Sanabria prendi Ricci che dopo Torreira è l'altro nome che ha fatto Sarri con da affiancare a Cataldi nel ruolo di Mediano. Allora queste condizioni quasi quasi ci posso stare. Ma ripeto il pensiero cardine le fondamenta di questo mio ragionamento insieme a voi è uno che non venga in mente a nessuno di sostituire o con Sanabria o con Castellanos Ciro e Immobile perché per questo ruolo per quanto mi riguarda solo uno può essere il giocatore giusto e ve ne parlerò nel prossimo video. Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.